me vi è da ride perché me vi è da ride ma non c'è stare ben cazzo da ride stamo a diventare una barzelletta ragazzi miei io so anni che tifo sta squadra ma una cosa per genere in vita mia non l'avevo mai vista ma manco in generale manco da altre squadre se dovemo fa sempre riconosce in un modo o nell'altro ma voi vi siete resi conto di quello che è successo nelle ultime ore proprio a prendere due difensori prima danzo sompano le visite mediche la roma non è convinta del calciatore tutto un cazzato bestemmiante il calciatore se ne ritorna a casa con la coda tra le gambe esprimendo tutta quella che la sua frustrazione anche l'incredulità per l'operazione del calciomercato saltata per via delle visite mediche non passate e mette anche in dubbio in parte la situazione lo vai a sostituire con un calciatore nettamente più scarso è un dato oggettivo e de fatto ad oggi e poi le cose nel calcio possono cambiare non mi è dato sapere manco mi interessa oggettivamente parlando oggi sulla carta sarebbe arrivato un calciatore più scarso arriva ulteriormente l'ir we go di fabrizio romano come era successo per danzo e alle 11 de sera 11 5 11 meno 5 ma non mi ricordo manco che ora era sompa pure questa operazione del calciomercato io penso che abbiamo messo tutti i tipi di record record dal lato della società perché una cosa del genere in rapida successione penso non sarà mai vista record dal lato mio per le bestemmie che ho che ho tirato nell'ultimo periodo ma in realtà in tutta sta sessione bene o male dei calciomercato con qualche gioia nell'intermezzo e non mi ricordo la terza cosa che volevo dire ma tanto c'ha veramente poca importanza ben tornati e ben ritrovati io direi che un contenuto del buon fabio avete capito che già lo è saltato tanto l'avrò scritto nel titolo io direi che il parere del buon fabio è d'obbligo su tutto quello che è successo visto che lui ragazzi sul web non ha espresso a parte che non so neanche quello che ne pensa ci stiamo a sentire veramente col contagocce sti giorni perché vi ho detto sta in vacanza sta staccando questi ultimi giorni prima che riparte con il lavoro e via dicendo quindi se volete il suo parere mi dovete riempire di like su sto video glielo porto io faccio vedere gli dico guarda qua sti like sono arrivati per te vogliono sapere il tuo parere e vi assicurate pure il contenuto suo seguitemi e attivate le notifiche perché si iscriviti campanella tutte le notifiche quando si apre il menù a tendina a tendina resti sempre aggiornato non te perdi più niente due canali di calcio e un extra calcio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video è mezzanotte meno un quarto mentre registro e non me ne frega manco un cazzo se ho anche sotto occhio è l'aggiornamento di sky sport non mi interessa se prendiamo qualcuno prima della mezzanotte che sostituisce giallo dopo la mezzanotte perché stai appunto a svincola non me ne frega un cazzo ragazzi miei non cambia quello che è il mio parere su questa situazione ma ci tengo ad aprire un'ulteriore parentesi sarà una breve parentesi che però dentro dentro ho lo stomaco oggi che mi ribolle sono incazzato ragazzi per come la ceduto non me lo aspettavo ma aspettavo l'operazione in prestito secco e basta perché pensavo che la roma per il futuro puntasse su un calciatore del genere che c'ha una storia con la roma importante che è legato ai colori giallorossi e invece è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto a una decina di milioni di euro totali dice ma il diritto potrebbe tornare indietro che diventa obbligo al 60 per cento delle presenze che fa con la fiorentina se non lo vuoi cedere il calciatore o metti non c'è diritto delle compra ragazzi non me pare non di aver letto una cosa del genere onestamente parlando mo smentitemi anzi in quel caso c'avrei anche una bella notizia qualora ci fosse il diritto delle compra della roma ma non mi risulta una cosa del genere fabrizio romano fino a che ho letto io ne hanno detto un cazzo di quel tipo e ci sono rimasto veramente de merda ragazzi per eduardo che non se lo meritava assolutamente e anche lato mio perché ero affezionato al calciatore e secondo me se meritava un trattamento completamente diverso chiusa questa parentesi secondo me altra parentesi ribadisco vergognosa per quanto poi la società è liberissima di fare le sue scelte e ci mancherebbe però io esprimo il mio il mio dissenso per un calciatore che era molto attaccato alla maglia che era uno dei pochi che quando entrava sudava e sputava sangue a differenza di altri calciatori che ultimamente sono titolari a centrocampo e manco una scureggia tirano a richiudo parentesi un'altra volta veniamo a sta barzelletta perché questa è una barzelletta ragazzi cioè se la vai a raccontare la gente si piscia sotto dalle risate ma è possibile che ci dobbiamo far riconoscere anche per operazioni di calciomercato del genere ma è possibile che tu te le vai a cercare le situazioni ma io non voglio essere stronzo ulteriormente e non voglio da più adito a Romeo Agresti rispetto a quello che dice Gianluca Di Marzio perché dicono due cose completamente diverse mo la verità a me non è data sapere fatto sta che vi dico prima quello che dice Di Marzio Di Marzio dice non si conclude l'affare tra Juve e Roma per Tiago Jalò il giocatore portoghese aveva trovato l'accordo con i giallorossi per il trasferimento ma dopo le visite mediche un'altra volta ci risemo il club oh ma cambiate dottore oh ma non è che è il dottore che sta rincoglionito perché mi comincia a venire pure sto dubbio eh il club capitolino ha deciso di lasciare cioè è capace che mi fate le visite mediche a me e i passo e ne dovrei passare eh il club capitolino ha deciso di lasciar perdere l'affare l'ennesimo ma se fosse questa la realtà dei fatti te sta bene te la vai a cercare te la vai tu te vai a prendere cioè ne ha passate visite mediche uno che l'anno scorso ha fatto 30 partite te può passare visite mediche uno che l'anno scorso non ha giocato ben cazzo ha giocato mezza amichevole mo voglio essere provocatorio voglio essere anche un po' ironico so che non c'entra un cazzo no però te lo vai veramente a cercare sai che il calciatore dal punto di vista fisico c'ha avuto acciacchi e ripeto e ribadisco era anche quello il motivo per cui non capivo l'operazione del calciomercato perché ci servono rinforzi che ci possano da qualcosa subito noi lottiamo per la champions league non possiamo permetterci perlomeno ci proviamo non possiamo permetterci di rischiare calciatori dal punto di vista della tenuta fisica e non te devi passare manco per l'anticamera del cervello devi rar ragazzi su uno come cialo ad oggi per quello che non sta facendo vedere alla juventus dovevi pensare immediatamente ad altro e te sta bene che alla fine salta st'operazione mo se per tue responsabilità se per quello che dice romeo agresti sarebbe ancor più grave la situazione perché romeo agresti dice giallo sei rotto il cazzo non l'ha detto così o dico io così perché mi piace parlare in maniera più spiccia giallo sei rotto il cazzo ad aspettare la roma da stamattina che gli deve dare una risposta e gli deve dire me prendi o non me prendi perché le visite mediche le ha fatte stamattina e gli ha detto ti faremo sapere questo è quello che dice romeo agresti non mi sembra una cosa così impossibile ve lo dico onestamente poi non la so la realtà dei fatti però sarà che sono cazzato e sono portato più a crede a un'altra versione dei fatti per quanto ad oggi Gianluca Di Marzio sicuramente più attendibile spetta che molte famo sapere spetta che molte famo sapere giocatore se sarebbe rotto il cazzo e giustamente in quel caso dice senti sei undici di sera ma hai rotto i coglioni io me ne ritorno a Torino sarebbe ancor più grave e paradossale ma ribadisco ripeto te sta bene perché tu ti ricordi non solo all'ultimo de chiude l'operazione del calciomercato in difesa uno due una volta che te salta e poi succede a prima botta che te salta una visita medica so sbagliate ribadisco le tempistiche alla seconda andata poi a andare a cercare tu te la sei andata a cercare ma a prescindere se le visite mediche te convincevano o meno te la sei andata a cercare e te sta bene e lo sai che cosa gli starebbe meglio alla società per cui tifo? gli starebbe bene qualora non riuscisse a prendere più nessun difensore manco quelli svincolati che poi chiude oltre la mezzanotte gli starebbe veramente bene perché così una volta per tutte capite che una società del genere in serie a sti livelli non si può permettere di rincorre come il ragazzino che ci ha il debito a scuola e apre i libri all'ultimo secondo e prova a studiare e prova a appiccicare qualcosa e davanti al professore fa mezza scena muta e dice qualche stronzata qua e là impreparati è dire poco è sintomo anche ragazzi di un pizzico di incompetenza di mancanza di lungimiranza di mancanza di programmazione lo ribadirò fino allo sfinimento ragazzi e ve lo dico con tutta l'onestà possibile perché io da tifoso sono incazzato incazzato perché se tu sai che un'operazione la devi chiudere la devi chiudere prima la vuoi chiudere all'ultimo la chiudi dieci giorni prima della chiusura del calcio mercato lo sai che poi all'ultimo devi stare a correre il termine del calcio mercato è una cosa messa là che è fittizia sta ai club imporsi una scadenza per arrivare a chiudere determinate operazioni e questo vale per tutti i club di serie A perché tanti e tanti club di serie A all'ultimo il fotofinish cercano sempre di corre ai ripari e cazzi e mazzi non si fa non si può fare una cosa del genere gli starebbe bene ci rimette sempre il tifoso ci rimetto sempre io Cosmoling che sta a mezzo servizio ad oggi non ho ancora capito la tenuta fisica poi se è De Rossi che c'ha altre gerarchie o lui che vuole andare in Arabia quello è un altro discorso poi se ne parlerà ma sempre ragazzi ritorniamo al discorso che cioè arriviamo mo addirittura c'è De Smalling c'ha il quarto difensore vorresti pure c'è De Smalling perché vuole andare in Arabia dice che in Arabia chiude il 2 settembre il calcio mercato non vorrei tibare una cazzata comunque non chiude oggi questo è poco ma ma sicuro ma veramente stiamo ridotti così cioè ma veramente io alla mezzanotte quando penso che c'ho c'avrò la squadra al completo nonostante corrono e controcorrono quasi quasi mi arrivo a D era meglio se arrivavo a D almeno ce l'avevi uno almeno ce l'avevi avevi bloccato un qualcosa almeno avevi dato un minimo di certezza io chiudo il calcio mercato ragazzi e sto ancora così a guardare per aria a D ma che cazzo arriva? ma vi sembra normale una cosa del genere? ma noi c'avemmo un'altra partita eh contro la Juventus sto fine settimana c'hai tre difensori centrali contati ma veramente devo aggiungere altro ragazzi ma veramente arriviamo a questo punto questo non è manco un video non c'ho manco la forza più dei incazzamme dei bestemmi ho finito le bestemme ho finito l'incazzatura armar de stomaco ragazzi mai ribadisco e poi chiudo il concetto mai come quest'anno mi hanno fatto veramente bollire il sangue lo scemo so io che invece faccio il sangue amaro perché è riduttivo di è diventato il mio lavoro parlare di Roma parlare di calcio qua è proprio una questione che esula da ste situazioni qua è proprio una questione del tifoso tifoso qualsiasi che da casa si vede ste situazioni e che c'ha una particolare propensione ad amare il calcio la propria squadra del cuore poi ognuno c'è sta l'occasionale c'è sta quello che gliene frega fino a un certo punto ognuno è libero di far come cazzo gli pare ma per come so fatto io ragazzi la situazione di bala così quello colà per me non c'è stata a capi in cazzo ma non ci avete capito un cazzo dall'inizio schiariteve le idee e imparate dalle prossime io ne voglio più vedere ste cose non le voglio più vedere queste cose se stanno a far riconoscere dal mondo intero quelli che ci guardano fanno bene a piacce per culo quelli che ci guardano da fuori e dicono guarda questi che cazzo stanno a fare non ne stanno a più a una non ne stanno a più a e mi sono rotto li coglioni pure di parlare non ne stanno a più a